TG Melito TG Melito TG Melito TG Melito E quindi adesso continuiamo con il nostro telegiornale perché è stato tolto il blocco, siamo a Villa San Giovanni, è stato tolto il blocco delle automobili attuato da circa un migliaio di precarie per cettori di ammortizzatori sociali in deroga agli imbarcaderi per la Sicilia appunto da Villa San Giovanni. La decisione è stata adottata al termine di un vertice convocato dal prefetto di Reggio Calabria alla presenza dei rappresentanti di Cisle Will dopo che è stato assicurato il pagamento di due mensilità ai precettori di ammortizzatori sociali in deroga e contestualmente l'apertura di un tavolo di confronto sulla vertenza che in Calabria riguarda circa 26 mila lavoratori. Rimane lo stato di agitazione ha detto il segretario generale della Will della Calabria Santo Biondo al termine della riunione. Ma la situazione si è potuta sbloccare stasera grazie alla mediazione del prefetto di Reggio Calabria Claudio San Martino e del questore che riteniamo siano interlocutori autorevoli cui fare affidamento così nella nota stampa rilasciata ieri sera al termine del blocco quindi quando il blocco è stato rimosso e quando è stata fatta questa conferenza stampa. Il blocco degli imbarcaderi andato avanti per tutta la giornata ha provocato notevoli disagi di trietti da e per la Sicilia sono stati dirottati con pesanti ritardi e difficoltà nel porto di Reggio Calabria. Rimaniamo nella nostra regione ovviamente perché da Roma stanno arrivando diversi finanziamenti, finanziamenti che tra l'altro comporteranno anche la possibilità di poter terminare, scusate il gioco di parole, il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. La cabina di regia ha permesso il coordinamento degli enti per giungere al completamento del Tribunale con risorse e tempi certi ed il Governo è pronto a concorrere con risorse statali. Buone notizie quindi per il completamento del Palazzo di Giustizia Reggio Calabria provenienti dalla riunione romana della cabina di regia interministeriale convocata su iniziativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio che si è tenuta giovedì. Per procedere si legge nel documento approvato al termine dell'incontro si è in attesa da parte del Comune Commissariato di Reggio Calabria della comunicazione dello stato di consistenza dei lavori che definisca l'importo preciso per finire l'opera. Tra le altre cose la cabina di regia dedicata alla Calabria si è occupata anche del tema delle infrastrutture. In particolare sul porto di Gioia Tauro il Governo valuta positivamente la possibilità di favorire gli investimenti delle imprese nel retroporto attraverso provvedimenti di incentivazione fiscale da assumere in tempi strettissimi. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale il Governo ha fatto una variazione di bilancio per ben 65 milioni per le ferrovie della Calabria e ha accolto nello sblocca Italia le richieste pervenute dalla Regione relative a 60 milioni di euro per sanare le diverse emergenze aperte per la copertura dei debiti progressivi nel TPL purché la Regione attivi le condizioni necessarie per il raggiungimento della riduzione dei costi. La cabina di regia ha avviato un coordinamento anche per altre emergenze rispetto alle quali è stato svolto un puntuale monitoraggio. Poi nel confronto interministeriale spazio anche al lavoro giovanile al 30 aprile scorso è stata stipulata tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro la convenzione per l'attuazione di garanzia giovani con uno stanziamento di circa 68 milioni di euro. A fronte di circa 12 mila giovani iscrizioni 15 centri per l'impiego con 517 dipendenti risulta abbiano contattato poche unità di persone. Ed è all'opera in Calabria una task force del governo per accelerare i lavori relativi all'edilizia scolastica. Entro la fine del 2014 si concluderanno 961 interventi di piccola manutenzione attivati dalla struttura di emissione per un valore di 13,5 milioni. Di questi 381 sono già stati realizzati. Sono stati sbloccati dal governo due cantieri del valore complessivo di 2 milioni per la costruzione di due scuole. E poi si parla anche di dissesto idrogeologico perché dal 1988 risultano più di 450 interventi non conclusi. Si legge nel documento approvato sempre nella riunione di cui stiamo parlando. Con la collaborazione della struttura di emissione sono stati sbloccati e avviati nell'ultimo mese e mezzo 33 cantieri per 22,9 milioni di euro. Altri 54 cantieri per 56,6 milioni di euro saranno attivati entro il 31 di dicembre. E poi concludiamo perché spazio infine ad una delle principali emergenze del territorio calabrese. Anche qui, almeno stando alle promesse del governo, sono in arrivo nuove risorse. Nello sblocca Italia sono state riprogrammate 16 opere già previste dal 2012, di cui 6 attualmente in fase di progetto di gara per un ammontare di 217,6 milioni di euro. La realizzazione dei lavori potrebbe inoltre evitare, porterebbe, scusate, ad evitare sanzioni europee per mancata depurazione che potrebbero arrivare a 21 milioni di euro l'anno solo per la nostra regione. E quindi chiudiamo con questo pacchetto di finanziamenti in arrivo da Roma e cambiamo decisamente argomento, ma parliamo sempre di un nostro conterraneo, di un nostro conterraneo molto celebre, perché il procuratore distruttuale di New York, Cyrus Vance, ha consegnato al procuratore speciale di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, il prestigioso premio Civil Courage Prize per il suo impegno nel combattere l'andrangheta, mettendo a rischio la propria vita alla mafia, ha detto il magistrato che ha contribuito a catturare ben 120 latitanti, approfitta della lotta al terrorismo che, come è già accaduto in passato, sottrae alla lotta alla mafia i fondi messi a disposizione dello Stato. Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria ha inoltre anticipato che a fine mese presenterà un pacchetto di riforme della commissione antimafia che prevedono di non abbassare il livello di garanzia di indagato ed imputato. Cambiamo argomento. La squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato tre persone accusate di estorsione aggravata ai danni di alcuni proprietari terreni nella piana di Gioia Tauro, imponendo loro guardianie abusive a terreni. Il provvedimento è stato notificato in carcere ad uomini di età diversa, dai 67-45 ai 70 anni. Quest'ultimo è arrestato ed è stato posto ai domiciliari. I proprietari terrieri erano costretti a subire ogni tipo di vessazione. Le vittime poi hanno ovviamente collaborato con la giustizia. E adesso parliamo di musica perché finalmente si conoscono anche le date dei concerti di Vasco Rossi e Giovanotti che dopo diversi anni torneranno ad accendere la musica allo stadio San Filippo di Messina. Anticipata di una decina di giorni la riconsegna dell'impianto alla CR Messina che potrà tornare nello stadio a fine luglio 2015. Il rocker di Zocca sarà in città, nella città dello stretto, città di Messina, il 13 o il 14 luglio. Mentre Lorenzo Giovanotti si esibirà il 25 luglio. In 12 giorni dunque Messina diventerà capitale della musica del sud Italia con due artisti in grado di fare il pienone e far confluire anche 70.000 persone in riva allo stretto e come sappiamo molte di queste vengono proprio dalla nostra regione, dalla Calabria. Giovanotti non avrà altre date in Sicilia e si esibirà solo a Bari per quanto riguarda il sud Italia mentre addirittura Vasco Rossi farà tappa per il suo live com solamente a Roma, Milano e poi Messina e quindi un grande onore per la città dello stretto avere il rocker Vasco Rossi. Concludiamo adesso con una notizia di calcio perché la regina ha svolto un lavoro prettamente atletico durante i suoi allenamenti con particolare attenzione a situazioni di gioco e calci piazzati. Al termine di questo, quindi al termine dell'allenamento, Mr. Cozza ha comunicato l'elenco dei convocati per la gara delle 19.30 di domani contro la Lupa Roma. La gara, scusatemi, di oggi delle 19.30. Portieri Palumbo, Kovacic, difensori Ungaro, Camilleri, Di Lorenzo, Caragonis, Crescenzi, centrocampisti Maita Rizzo, Armellino, Dall'Oglio, Maimone, Sandria e poi attaccanti Luzdas, Insigne, Giucci, Viola, Masini e mentre sono diffidati Camilleri e Rizzo. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vi ricordiamo che le repliche dei nostri telegiornali, dei nostri speciali e di tutta la nostra programmazione la potete trovare online, on demand sui nostri canali YouTube e su Facebook, gratuitamente ovviamente. Grazie per averci seguito ed un buon proseguimento su Telemelito.